Un inizio di stagione ben al di sotto delle aspettative per il Massapra, alla vigilia del torneo, considerata la compagine naturale antagonista del Martina nella lotta al primo posto. I ragazzi di Dalena, dopo quattro gare di campionato però, hanno messo in cascina appena due punti, frutto dei pareggi contro Sava e Grottaglie, e la casella dei successi segna ancora un desolante zero. Che l'area fosse tesa lo si poteva ampiamente immaginare, ma intanto nella serata di martedì 27 ottobre è anche giunta la prima separazione. Pino Di Fino ha deciso di rassegnare le dimissioni dall'incarico di direttore generale a causa di incomprensioni sorte con il presidente Rubino, in merito ad alcune dichiarazioni rilasciate dall'ormai ex Tg riguardo la sfida persa a Ugento. Verosimilmente, riferite alle mancanze del Massapra sia in avanti che nella costruzione delle azioni, anche se di questi ultimi aspetti non si fa alcun riferimento esplicito nel comunicato ufficiale. In ogni caso, sarà poi il presidente Rubino a decidere se rigettare o accettare le dimissioni di Di Fino, che intanto si dice pronta ad affiancare sua moglie nel progetto del calcio femminile giallorosso.